Il principe Ferri e Meghan Markle non vanno a Natale a Sandringham dal 2018, ma ultimamente sembra che ci sia stato un cambiamento nel loro rapporto con i reali. Il principe Ferri e Meghan Markle sarebbero felici di accettare l'invito a trascorrere il Natale con la famiglia reale a Sandringham, secondo una fonte reale. Nonostante le tensioni in corso tra i Sussex e il resto della casa, se Re Carlo avesse contattato il figlio più giovane, la fonte ha aggiunto che sarebbe altamente improbabile che l'invito sarebbe stato rifiutato. Ferri e Meghan non trascorrono il Natale con i reali dal 2018, quando Meghan era ancora incinta del figlio, il principe Archie, e la famiglia ora tende a trascorrere le festività natalizie in California. Un amico ha detto al Sunday Times, non riesco a immaginare che i Sussex rifiuterebbero un invito a trascorrere del tempo con Sua Maestà. Per ora non c'è stato alcun invito per le vacanze. Questa settimana è stato riferito che Ferri ha contattato suo padre per il suo 75esimo compleanno. E sia lui che Meghan, apparentemente gli hanno parlato al telefono. Secondo quanto riferito, anche il principe Archie e la principessa Lilibet, hanno registrato un messaggio di buon compleanno per il nonno, poiché sembra che il gelo tra le due parti abbia iniziato a sciogliersi. Archie e Lilibet sono cresciuti a Montecito, e hanno pochi contatti con i reali. Con Lilibet che ha incontrato Charles solo una volta, l'anno scorso al giubileo di Platino. Inoltre, non hanno molti rapporti con i loro cugini Prince George, Princess Charlotte e Prince Louis, anche se resta inteso che i Wales e i Sussex, si scambiano regali per i figli degli altri.